buona buona bella se la mollo logicamente ancora peggio perché è già lei deve stare in posizione retta ma si crea sta schiuma io non so perché non c'è niente da fare qualsiasi cosa gli dai in bocca mette solo l'acqua fa così ora deve vomitare costi corti costi ora schiuma e butta le vitamine che ho preso ogni posto ogni bevuta ogni cosa questa reazione massaggini niente ora vediamo se ci riusciamo alcune volte ci riesco no è tutto c'era e bellare da te tutto il pensiero che si perché non ti è rimasto niente era solo la vitamina non accetta questo non vuole vivere